E la vittoria di oggi è Lorenzo Savadori, una fantastica vittoria per voi e l'onore di avere il primo vittore per la Panigale. Una vittoria strepitosa, l'onore di aver fatto la prima vittoria per la nuova Panigale. Sì, sono onorato, sono felicissimo ad aver vinto la gara che era tre anni che non vincevo una gara. Sì, sono molto onorato, molto piaciuto, sono tre anni che non vincevo una gara, ovviamente. E sono onorato di aver vinto per la prima volta con la Panigale. E sono onorato di aver vinto la prima vittoria per la nuova Panigale. È stata una gara difficile, condizioni strane. Niente, ho provato a spingere sin dall'inizio. Eddie purtroppo ha fatto un errore, se no ce la saremmo giocata fino alla fine. Una molto difficile rinforzata, condizioni sono difficili. Eddie ha fatto un po' di errori al principio e poi ho riuscito a rinforzare. E ringrazio la federazione, la Ducati e il team Barney. Big thanks to the Federation, Ducati and Barney team. Thank you very much, Lorenzo Savadori. Grazie.